Salve a tutti gli amici di TechDifferent, siamo qui con l'unboxing di questa powerbank portatile di AUK da 5000 mAh. Vi ricordo che questa powerbank è fatta totalmente in alluminio, quindi materiale davvero molto molto elegante. Bene, proseguiamo con l'apertura della confezione, qui troviamo la powerbank, così la vediamo un attimino da vicino. Eccola qua, powerbank a forma diciamo di rossetto che non è neanche tanto pesante, quindi sta bene nella borsa delle donne oppure anche in tasca di noi uomini. Abbiamo poi l'ingresso micro USB per la ricarica e l'uscita USB per ricaricare il nostro dispositivo qualora ne avessimo necessità. Poi proseguendo ancora vi faccio vedere un attimino il design, anche nella parte, su un altro lato abbiamo il tappo in alluminio, tutto un corpo unico tranne il tappo frontale con gli ingressi. Andiamo a vedere il resto del contenuto da confezione che consiste nel cavo USB, micro USB. La garanzia che dovremo attivare registrandoci appunto al sito indicato su questo cartoncino. Poi abbiamo anche un lato che dovremo compilare con i nostri dati personali qualora dovessimo restituirla e chiedermi la sostituzione per un malfunzionamento. Infine vediamo il manuale di istruzioni con le figure che ci spiegano in modo rapido e semplice a cosa servono gli ingressi, l'uscita e i due LED che sono presenti per indicare la ricarica della stessa oppure che vanno ad indicare la ricarica del dispositivo. Infatti come lo collegheremo ad un dispositivo avremo un LED blu, quando il dispositivo sarà carico avremo un LED verde. Bene, questo è il contenuto della confezione, confezione ecologica, in cartone riciclato. Vi ringraziamo per la corso di attenzione, un saluto a tutti e dal prossimo video. Grazie a tutti.